Centralmente al centrale, nigeriano Ogbu, quindi Oles, che se la alza male, pressing di Acerawi, che roba possiamo andare, Molchio Bove, Serveto, al limite Bove, pensa al tiro, lo fa! Mamma mia Edo! Mamma mia Edo! Un gol pazzesco! Roma 1 su area 0. Un gol avanza, palla al piede, sposta su Dybala, centrosinistra, centrodestra, sale Karlshoff, con incontro Lukaku, servito ancora per Dybala, il tacco del ristante per Lukaku in aria, Lukaku, 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 Lukaku! Lukaku! Il gol della Roma! Tiro di Lorenzo! 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 Tiro di Lorenzo!